Salve a tutti, sono Gianluca Landi e vi voglio parlare oggi dei miei alert Lai De Draw. Come sapete dopo un periodo di prova che è iniziato circa a metà settembre, sono partito negli ultimi dieci giorni con il lancio del canale a pagamento degli alert Lai De Draw e dell'Alert Super Lai De Draw. La prova si è prolungata in maniera più lunga perché quando sono partito, diciamo a partire già da dopo la prova, ci sono state una serie di problematiche con i nostri fornitori di servizi API e quindi arrivavano pochi alert durante il sabato e la domenica, non come venivano nei mesi precedenti che già i miei clienti dell'Alert God utilizzavano e per questa ragione ho prolungato la prova, fino a quando nel mese di novembre, intorno al 7-8 novembre, sono tornate le API a funzionare nella maniera corretta come stanno facendo adesso. Quindi ho prolungato la prova e adesso siamo partiti col canale a pagamento in promozione. Come tanti hanno potuto vedere da quando sono tornate le API a funzionare nella maniera corretta, l'Alert Lai De Draw ha avuto dei risultati ancora migliori di quelli della partenza perché l'Alert Lai De Draw e Super Lai De Draw hanno un success rate superiore al 70% e in questo mese di dicembre siamo sopra addirittura all'80% con 10 win di fila consecutiva. Quindi adesso abbiamo lanciato l'Alert Lai De Draw e Lai De Draw che sono due canali dove vi arrivano pochi segnali al giorno, il sabato e la domenica vi possono arrivare 4, 5, massimo 6 alert, dove vi dice il sistema già la partita su cui andare, il mercato su cui operare, Lai De Draw banca pareggio e vi dice anche la quota. E poi una volta che viene segnato il gol si suggerisce di fare green up. Però come tutti sanno se mi arriva un alert Lai De Draw sullo 0 a 0 per esempio e sono fuori oppure oppure non sono fuori e voglio fare l'over 0.5 questo lo posso fare. Naturalmente la quota non sarà uguale a quella che ci dice il nostro il nostro Banca X, il nostro sistema sarà più bassa ma non dovrò fare il green up per uscire. Quindi potete fare il Banca pareggio quando viene fuori oppure potete andare a fare l'over. I canali sono due. Qual è la differenza tra l'Alert e l'Alert Super Lai De Draw? Che all'Alert Lai De Draw vengono più segnali. Vengono segnali molto selezionati e però ne vengono di più, ripeto, all'Alert Super Lai De Draw. Nell'Alert Super Lai De Draw i segnali sono inferiori a non successerebbe ancora ancora più elevato rispetto all'Alert. Quindi potete decidere in base anche al vostro grado di rischio quali dei due canali utilizzare oppure utilizzarli entrambi. L'unica cosa da stare, da porre attenzione e quando naturalmente ci sono, siamo disponibili e sono davanti al monitor e vedo le partite, ve lo dico che se arriva un alert sul gol per quanto riguarda l'Alert Lai De Draw, un alert sul gol, cosa vuol dire? Segnano il gol e arriva contemporaneamente o uno o due minuti dopo l'Alert, lì suggerisco di porre molta attenzione. Nella maggior parte dei casi, quando sono una partita tra due squadre molto molto simili, oppure uno scontro al vertice, suggerisco di non andare a fare quell'Alert su gol, perché il gol è stato fatto, è stato appena segnato. Invece per quanto riguarda l'Alert Super Lai De Draw, quello suggerisco di farlo sempre, anche se arriva un alert sul gol, perché quello lì ha dei parametri talmente più stretti, ha sotto un algoritmo talmente più, diciamo, più stringente, che anche se arriva l'Alert sul gol, lo potete fare in tutti i modi. Quindi l'Alert Lai De Draw e l'Alert Super Lai De Draw sono due canali dove vi arriva il segnale e voi dovete andare a operare, stando attenti solamente sull'Alert Lai De Draw, di porre attenzione se viene segnato un gol quando arriva l'Alert. E se ripeto, se io ci sono e noto che c'è qualcosa che non va fatto, vi avverto. Però ripeto, gli alert sono sempre validi e hanno delle percentuali elevate anche quando arrivano sul gol. Quindi questi sono i miei canali alert, e adesso li stiamo, diciamo, tra virgolette, lanciando in promozione al costo di 44 euro sino al 31 gennaio. Quindi uno a tanto, uno li paga sino al 31 gennaio 44 euro tutti e due. Poi dopo, a partire dal primo febbraio, naturalmente, con i risultati che ci sono, che ci sono stati sino adesso, lì naturalmente rivedremo tutto e ritarriamo, diciamo, gli abbonamenti in base risultati che fa il sistema, come mi sembra ovvio che sia. Anche perché, ripeto, veniamo, da quando abbiamo risistemato tutte, diciamo, tutte le app, dei numeri direi incredibili. Naturalmente andiamo a fare quote Lai De Draw intorno ai quota da 1,70 a 2,20, 2,24 massimo, quindi in un range di quote ottimali. Non andiamo a fare come qualcuno, banca di Parigi 8, 9, 10, e poi vanno a finire anche 0,0. Invece ne andiamo a prendere quando le quote sono basse. Poi sta lì anche a voi operare in un certo modo. Cosa vuol dire? Tantissime volte arriva l'aller tra di 2 a quota 2,10 e poi dopo poco segnano. Oppure cosa invece può succedere? Come fanno in tanti? Entrano con un primo stake e poi entrano anche più basso. Ultimamente i gol li hanno segnati all'85, 88, 90, 92, 94. Quindi tutti i resoconti che noi andiamo a mettere, che abbiamo messo online, sono tutti con ingressi, con ingresso, quando arriva alla quota in cui arriva. Abbiamo messo anche, nei resoconto, quando le api non funzionavano, quindi abbiamo messo anche quegli alert lì, quindi quando nel periodo di ottobre abbiamo detto di non farli. Noi comunque quelli che sono arrivati li abbiamo tutti registrati, abbiamo anche inserito gli alert sul gol che nel canale Alert Lai De Draw abbiamo detto di non farli. Per esempio ne sono arrivate alcune nel campionato giapponese alle 6 del mattino, io per esempio ero a dormire, non l'ho potuto tra virgolette anulare, le abbiamo comunque inserite, anche se quelli non andavano a fare. Quindi come potete vedere, quei valori che vedete di profitto sono altamente, altamente, adesso li vedremo, sono altamente peggiorativi rispetto a quelli che sono nella realtà. Uno perché li abbiamo messi tutti, anche gli alert sul gol, quando non sono stati annullati. Due perché abbiamo messo l'ingresso a quella quota lì e in tantissimi entrano a scaglioni più basso. Tante volte segnano il gol velocemente, ultimamente stanno segnando il gol dopo e quindi lì se uno entra a scaglioni naturalmente il profitto che può fare è enormemente più elevato. Quindi ripeto potete farci gli alert Lai De Draw oppure gli over correnti. Quindi ripeto se siamo 1 a 1 potete andarci a fare l'over 2-5. Ha una quota più bassa però non dovete fare il green up quando uscite. Poi abbiamo messo sia il profitto in green up sia il profitto full time. Lì potete vedere come cambia perché tante volte la partita rimane per esempio 1 a 1 va a finire 2 a 1 finisce tra 1, tante volte fa il 2 a 1 e poi fanno il 2 a 2. Lì potreste anche un attimino anche voi valutare l'operatività in base alla partita, a quella che si sta giocando e via dicendo. Ci vuole anche un po' di elasticità nelle cose che si fanno. Adesso andiamo a vedere nel canale Telegram come funziona i risultati e come sono stati inseriti i vari alert nei canali. Quindi andiamo a vedere adesso come funzionano. Ecco questo per esempio è il canale alert Lai De Draw. A partire dal mese di dicembre. Come vedete questi segnati col verde sono stati quelli positivi e qui per esempio è arrivato l'alert e avevano già segnato l'1 a 0 dopo qualche secondo e quindi noi abbiamo messo qui che non è valido perché avevano appena segnato. Poi questo discorso è arrivato alert Lai De Draw sul gol, abbiamo detto alert non valido, poi Lai Chester ha vinto invece 2 a 1. Stesso discorso qui, era una delle ultime giornate al campionale brasiliano, è arrivato sul gol, abbiamo volato e anche quest'anno ha segnato. Per noi siccome l'abbiamo annullato e l'abbiamo messo questi diciamo voi. Poi come potete vedere positivo verde, questo l'hanno appena segnato da non fare su 2 a 2 e anche questo poi l'hanno segnato, però l'abbiamo annullato per il momento e come vedete tutta una serie di positivi. Empoli Ascoli, verde, verde, guardate verde, questa è la fila di 10 positivi. Poi abbiamo messo quello del canale, come potete vedere 10 positivi. Poi siamo andati a sbagliare il sistema il 14 dicembre. L'inglese questa è la cavese ternana di cui hanno sbagliato il rigore, hanno dato il gol. Vabbè, è rimasta 1 a 1. Poi il campionato turco, questa qui e poi come rivedete 3 green, quest'altra turca che adesso abbiamo eliminato la Turchia Liga 1 e l'Uruguay l'altro giorno. Quindi come avete visto al mese di dicembre abbiamo avuto un resoconto che poi vedremo notevole. Quindi questo funziona il canale, vi arriva la notifica dove c'è il campionato, c'è la partita, c'è il risultato, c'è il minuto, quindi potete vedere il minuto in cui è arrivato l'alert, la quota e l'ingresso. Stesso discorso, questo è il canale alert light draw e poi c'è il canale invece alert super light draw che adesso vi faccio vedere, ne ho un po' tanti di canali. alert super light draw, eccolo qua, come vedete ne arrivano meno nel mese di dicembre. Vabbè, andiamo a vedere anche prima da novembre. Questa è sbagliata, poi vedete due positive, positiva, questo stesso discorso non valido, era le ceste che ho detto prima, questo sul gol l'avevamo annullato, poi positiva, positiva l'8 dicembre vedete 7 ne è arrivato 1, l'8 ne sono arrivati due, poi questo del canale, 13 dicembre questa positiva, 14 sbagliata e Valencia Real Madrid anche questa è presa. Poi, ripeto, uno deve anche un attimino capire come fare le partite. Io vi dico cosa è successo, abbiamo fatto l'alert light draw su questo, quello che ho fatto io, attaccato, attaccava solamente Real Madrid, fa il gol ha intorno a quota 1,70 il Valencia, io cosa ho fatto? Avevo bancato il banca X intorno a quota 2,10, appena ha fatto gol il Valencia e la quota del banca pareggio è andata intorno a 4,2 o 4,4, io banco, facciamo conto, banco 100 e ho ripuntato 100. Perché non ho fatto il green up? Perché attaccava solamente Real Madrid, avevo visto tutta una serie di condizioni e pensavo, ero abbastanza convinto che vincesse il Real Madrid. A questo punto non ho fatto green up, il Real Madrid ha pareggiato alla fine e ho preso un profitto esagerato rispetto a fare green up subito. Se il Real Madrid non pareggiava e io quella partita lì la chiudevo void, non guadagnavo e non perdevo niente. Quindi potete capire che con un attimo di testa potete fare anche diverse altre cose rispetto all'alertate quando viene fuori. Quindi questi sono i due canali, come vedete, molto semplici. Dovete essere iscritti a Telegram e registrarvi e il nostro canale vi manda i segnali. Poi andiamo a vedere un attimino le pagine dedicate dell'alert. Queste sono le pagine dedicate all'alert IDDRAW, le trovate sul mio sito, betting exchange, alert l'IDDRAW Gianluca Landi. Qui vedete la pagina come è fatto, l'abbonamento, info per l'acquisto degli abbonamenti a 44 euro sino al 31 gennaio 2020, cliccate qui e c'è la procedura per fare. Qui vedete un po' di materiale, vi spiegano come è fatto e sotto qui trovate i risultati. Vedete? Andate sotto, sono tutti aggiornati, foglio Excel, vedete sotto e qui vi vedete i risultati come hanno fatto quello che vi dicevo. Ecco di qua. Tutta la serie di win e di lose quando ci sono. Mettiamo l'ingresso qui in green up e invece se si sta fino alla fine della partita. Potete anche voi rendervi conto se conviene in alcune situazioni stare fino alla fine oppure no. Non mettiamo tutto e questi sono risoconti. Naturalmente qui c'era la zona qui nel mese di ottobre e novembre c'era il problema come abbiamo detto e se abbiamo preso queste perdite le api non funzionavano, lo sapevo, come potete andare a che vedere ci sono pochissimi e in alcuni giorni sabato e domenica c'è pochissimi segnali perché avevamo un problema di api. Cosa che non succedeva per esempio quando è iniziato qui come potete vedere dal mese di maggio ci sono tutti. Quando le api funzionavano in maniera corretta i dati ci sono tutti e potete andare a vedere i risultati che ha fatto. Vedete anche le strisce che ci sono. Adesso tutto funziona in maniera corretta le api e quindi qui sono i risultati che abbiamo visto e che potete vedere. Poi se andate a vedere qui sopra ci sono i success rate. Adesso siamo qui sopra nel alert di draw nel mese di dicembre. Eccolo qua. Potete vedere sono arrivati 18 alert, 14 positivi, 4 negativi per un success rate del 78%. Qui ripeto nel mese di ottobre e in parte in primi giorni di novembre c'era stato il problema come abbiamo detto dell'api tutto è ripartito a partire dal 10 novembre. Qui sopra comunque abbiamo inserito tutte le partite che sono arrivate come vedete il success rate. Se vi rendete conto a partire dal mese di maggio il success rate 63, 72, 79 luglio, 73 agosto. A settembre dal 15-17 settembre quando siamo partiti abbiamo avuto il problema. Vedete il success rate si è abbassato 63. Poi nei due mesi di ottobre e in parte la prima parte di novembre abbiamo avuto il problema il success rate. Sono arrivate poche partite, si è abbassato e poi è ritornato come era quando tutto è tornato intorno al 78%. Comunque qui sopra voi vi rendete conto dei segnali che sono arrivate e le varie percentuali. E poi sotto c'è l'alert super light draw, eccolo qua stesso discorso e vi trovate. Comunque se andate a sommare i due canali vi ritroverete che solamente per i due che sono arrivati, solamente nel mese di ottobre abbiamo avuto una perdita, poi negli altri mesi è positivo. Queste sono fatte con 50 euro di responsabilità a singola operazione se si entra, ripeto, alla quota in cui arriva. Tantissimi entrano a scaglioni a quote più basse e quindi i profitti sono diversi, sono un'altra cosa, sono nettamente migliorativi. Però questi sono i profitti fatti con 50 euro di responsabilità entrando subito alla quota diciamo corrente che c'è. E quindi comunque qui vi potete trovare, ripeto, tutto. Alert light draw e da quest'altra parte l'alert super light draw. Stessa cosa, vi spiega come è fatto e ci sono tutte le statistiche del sistema, come è funzionato. Vedete questo è l'alert super light draw, come potete vedere ha meno segnali, però vedete quanti lose pochi ne abbiamo, la questione è diversa. Adesso questo, questo non abbiamo ancora caricato il file, è fermo al primo settembre. Ora carichiamo i file, sono già pronti, come vedete gli altri ci sono, questo va ricaricato, ci va messo il file nuovo perché vedete si ferma al primo settembre. Però guardate da luglio a settembre quando era stato dato in prova gratuita alle persone, questi sono i risultati che facevano. Guardate quante picco, tutto verde e quante lose poco. Però questi qua li ritroviamo da questa parte. Quindi qui vi ritrovate i profitti dei due, ve li ritrovate su questa tabella messa qua i segnali che sono arrivati. Adesso caricheremo dall'altra parte invece anche i risultati di questi uno per uno. Può succedere che alcuni segnali dell'alert all'edit draw siano gli stessi del super alert e allora lì potete andare tra virgolette ancora più tranquilli, perché se arriva da entrambi vuol dire che è meglio. A volte arriva un super alert e dopo poco arriva un altro alert all'edit draw. Poi a chi ha il canale invece alert e goal diverse volte può arrivare l'alert e goal, l'alert all'edit draw e il super alert all'edit draw. Quando arrivano tutte e tre le probabilità insomma di riuscita sono ancora notevolmente maggiore rispetto a prima. Quindi vi ho spiegato come funzionano i miei alert all'edit draw e potete, se siete interessati, potete andare a vedere meglio tutte le informazioni che stanno sul sito e se volete insomma provarli e vedere come funziona. Naturalmente poi dal mese di febbraio ripartiremo in maniera diversa con i risultati. Ho voluto dare questa opportunità a tanti, a chi li vuole tra virgolette usare e provare dopo la prova per tra virgolette scusarmi del fatto che nel mese di metà settembre e ottobre i primi giorni di novembre c'è stato un problema di acqui, anche se non era tra virgolette derivante da me, però insomma il servizio era mio e quindi anche per scusarmi di questa cosa ho voluto prolungare diciamo questa sorta di prova perché il prezzo in cui lo diamo mi sembra mi sembra diciamo strapopolare 44 euro uno a tanto sino al 31 gennaio vedendo i risultati successi a rete che basta che uno entri con 30 euro, 40 euro si rifà ampiamente il prezzo del lavoramento. Comunque potete insomma informarvi, prendere maggiori informazioni su questa cosa ricordando sempre che si usa sempre il money management del proprio conto perché questo è fondamentale per avere poi per mantenere dei profitti costanti nel tempo. Vi saluto e al prossimo video. Ciao a tutti!